eccoci qua dopo aver acquistato la borraccia air up se vi siete perso il video trovate nel canale ho acquistato al tripod un accessorio dedicato questo è l'accessorio dedicato che praticamente è una fodera un rivestimento per tenerla al fresco a livello termico tiene sicuramente di più che tenere una scoperta e siccome io lo uso per lavoro vediamo se riusciamo a farlo cazzare ma io indietro viene così c'è anche una linea poi ho preso questo, agrumi e rosmarino, speriamo che sia bello forte perché i pot che ho usato finora sono un po tenui per i miei gusti e siccome ho detto che quelli agrumi e allo frutto sono quelli più forti e poi ho preso una selezione, i favoriti 5 che dovrebbero essere quelli più utilizzati e più buoni allora in questa confezione c'è dentro il limone e sono curioso di assaggiarlo, sarò simile ad agrumi pera cocco, questo qui mi piacerà a mia moglie e infine questo che dovrebbe essere nella no c'è ancora uno, ecco ho dimenticato strobelli, stroberri e lemongrass grazie, ciao